musica 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 bene ragazzi siamo i GRANNOS e siamo tornati con un nuovo video che era così cattivo? GRANNOS comunque questi questa era la classifica si guarda guarda oh aspetta che devo fai i cam scialla scialla telefono squilla vai vai non devi fai i cambi oggi andiamo col cambio di ieri vai 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 giungiti vai 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 se vediamo la classifica si allora vediamo se siamo insieme frax bella a kakater k si siamo in due perchè sempre ti apri a farla inizio? che ora tu farei quello che ti dico di fare io vai 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 ancora ci devi andare ah no 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 porca troia però c'arriba cecchità c'ar FCC da c'ar FCC da ci uh va bene uh eh ma che cazzo stavo a fare sto facendo su noi porca troia fuorigioco no si no che palle sempre così o sempre in salita e cose o non ci sta una partita che vinciamo dall'inizio fino alla fine sempre così dai però sono ancora in grande merda cioè c'è da vantassi ma magari se vabbia la connessione per 10 secondi in più ti giuro godrei troppo dai non è possibile dai non è possibile guarda cosa spero che non ci fai rivedere play dai non gioca tutto di 20 minuti non gioca di 20 è possibile vai giovi vai giovi e vabbè te culo porca troia cioè vedi la differenza lui pia tu diri gol noi guarda di dire anche un gol cioè poi mi spieghi il perchè e quindi non è che tutti questi diritti così diversi da quelli che abbiamo fatto noi ha fatto lui no cioè l'ha presa lui l'altra volta no 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 grazie 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 scritta grazie grazie no 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 comunque no si ma no 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 ma tu passa e poi faccio io parola no 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 come se l'è mangiato questo lo perdi sicuro vaffanculo guarda non è così come fa non ti siamai farlo queste cose no non c'è una bloccata vabbè ma che eh ma poi dai che c'ha noia che importa cioè Alves io non so neanche chi sia e me blocca madonna di dio oh eh no si si vabbè ma vaffanculo va ma che cazzo è ma spazza sempre oh eeeh mamma mia sconfitta voi è meritata sconfitta è meritata ma brutta va bene diciamo che la prima sconfitta della stagione è arrivata lunedì ci sarà un nuovo episodio eeeh la settimana andremo la caccia della promozione e noi ce la faremo noi siamo forti noi siamo i vecchi trapani e noi vince nemo vince nemo ok ciao